questo è Arnold e ancora una volta sopravvive con soli 5 dollari a settimana ehi Arnie forse è ora di trovarti un lavoro decente invece di accettare offerte dubbie da sconosciuti nuovo dentifricio al gusto burrito che diamine no non mangiarlo idiota il dentifricio contiene fluoro e mangiare solo lo 0,01 per cento può aumentare il livello di fluoro nel corpo se mangiasi in questo modo per 30 giorni potresti sviluppare la fluorosi e la tua bocca si trasformerebbe in una galleria d'arte dove ogni dente avrebbe uno schema e un colore diverso e unico Arnold penso che tu sia il migliore nel monetizzare gli esperimenti sul tuo corpo ma c'è un piccolo problema non solo i turisti vogliono fare foto con te ma anche i dentisti dopo tutto sei l'unica persona che mangia dentifricio da una settimana è difficile da credere ma se mangi il dentifricio nei fast food il rischio di soffrire di obesità aumenta più volte a causa degli agenti antimicrobici che dovrebbero combattere i batteri nella cavità orale distruggeranno il microbioma nel tuo stomaco interrompendo il tuo metabolismo e ti faranno esplodere come un palloncino di compleanno ho due notizie la buona notizia il tuo spacciatore è stato catturato e rischia il carcere e la brutta notizia sei in condizioni terribilmente terribili e la tua diagnosi è dipendenza dal dentifricio Arnold sei solo una calamita per i guai questo sembra davvero brutto hai bisogno di un ricovero immediato non ce la farai ad arrivare all'ospedale il tuo cuore potrebbe fermarsi hai bisogno di una trasfusione di sangue per mantenere la pressione nel tuo sistema circolatorio durante la guerra del Vietnam le flebo di cocco venivano talvolta utilizzate per curare i feriti sorprendentemente l'acqua di cocco è abbastanza simile al plasma sanguigno umano allora cosa abbiamo coca cola va bene mettiamoci al lavoro ma per prima cosa devi liberarti di tutto il gas se il gas contenuto nella bevanda entra nei tuoi vasi sanguini ti farà letteralmente a pezzi dall'interno la cola contiene zucchero glucosio questa è una perfetta fonte di energia veloce e ti permette di rivivere davvero sembra aver funzionato la cola ha messo radici nel tuo corpo ma il tuo aspetto è cambiato solo un po amico anche i tuoi capelli hanno cambiato colore ma d'altra parte sarai un ospite graditissimo a qualsiasi festa per bambini con così tanta caffeina nella cola che scorre nelle vene devi dormire solo una volta ogni tre giorni ora hai molto più tempo delle persone normali dopo tutto anche gli atleti professionisti bevono cola per una rapida dose di energia e puoi sempre fare una ricarica al supermercato più vicino no fermati kamikaze pazzo un solo mentos potrebbe trasformarti in un missile terra aria non preoccuparti non ti rovinerà la giornata la cola aiuta anche a combattere la depressione lieve ma ad essere onesti arnold la cola nel tuo sangue è in realtà letale i tuoi occhi reni nervi e cuore soffriranno incredibilmente si sembra che la cola non sia una buona opzione quindi che dici proviamo la pepsi la prossima volta allora hai deciso di mangiare solo cibo piccante diventare come il tuo super eroe preferito blazing surfer ti aspetta un lavoro fantastico peperoni super piccanti patatine al wasabi super piccanti ali kentucky fried chicken o arnold vorrei che stessi più attento la capsaicina è responsabile della piccantezza di tutti i prodotti colpisce i recettori del gusto creando una sensazione di bruciore ciò innesca una scarica di adrenalina aumenta la frequenza cardiaca e aumenta la temperatura corporea il cibo piccante soddisfa la fame più velocemente aumenta il dipendio energetico contribuendo alla perdita di peso ma un eccesso di cibo piccante può provocare la gastrite questa indigestione con un consumo regolare la sensazione di piccante si attenua arnie questa è la tua occasione una gara tra mangiatori di peperoncino e il blazing surfer sarà lì allora arnie i tuoi concorrenti sono un messicano e il diavolo in persona e tu arnold mangerà il peperoncino più piccante del mondo il carolina reaper che dio abbia pietà di te il cibo piccante non provoca malattia lo stomaco la causa sono i batteri nocivi che entrano nel corpo con prodotti alimentari crudi se la malattia non progredisce consumare cibi piccanti può addirittura aiutare a prevenire la diffusione dei batteri ma ricorda se il cibo piccante provoca disagio riduce al minimo il suo consumo continua a sorridere arnold dopo tutto i piatti piccanti contribuiscono al rilascio dell'ormone della felicità dopo essere entrato in contatto con il peperoncino non strofinarti in nessun caso gli occhi ti brucerai le mucose e non tentare di lavarlo con acqua perché ciò intensificherebbe effettivamente la sensazione di bruciore il latte può aiutare l'acido citrico presente nel latte nel limone o nell'arancia possono lavare via la capsaicina dai recettori e fornire sollievo dai arnold puoi farcela il tuo idolo ti sta guardando perfetto ehi armi ora mangerai solo carne cruda come un carnivoro riesci a sentire quanto velocemente stanno aumentando i tuoi livelli di adrenalina ed aggressività certo sarà un po più difficile da masticare perché i denti umani non sono adatti a mangiare carne cruda meglio tagliarlo a pezzetti come facevano gli antichi mongoli allora infatti è intitolato il piatto più famoso a base di carne cruda la carne tartara senza cereali verdura e frutta il flusso di glucosio che è il carburante per il tuo corpo si fermerà il tuo fegato inizierà a elaborare le sue riserve di grasso per soddisfare il fabbisogno energetico del tuo corpo e inizierai a perdere peso fino a 5 chili a settimana nel frattempo i muscoli inizieranno a disidratarsi e ad asciugarsi ecco perché una dieta a base di carne è così popolare tra le celebrità e le top model di hollywood i livelli di colesterolo nel sangue aumenteranno e beh ammettiamolo sarai maggiormente a rischio di malattie cardiache gli aminoacidi riempiranno il tuo intestino si mescoleranno con i batteri della tua pelle e questo porterà un odore corporeo super scheradevole la carne cruda contiene alcuni microorganismi pericolosi come e coli salmonella e listeria e possono farti soffrire di diarrea vomito e solo una vecchia pesantezza generale allo stomaco ma quando il tuo corpo si adatterà finalmente a tale cibo sentirai un'impennata di energia e forza fisica la ragione di ciò è l'aumento dei livelli di testosterone e vitamina d anche lo stesso bruce lee quando si preparava per i combattimenti amava bere un bicchierone di delizioso frullato di carne fresca i nostri antichi antenati mangiavano carne cruda ma le loro vite sono cambiate per sempre quando hanno capito come usare il fuoco e hanno iniziato a cucinare ciò ha ridotto di due terzi il tempo necessario per la digestione quindi il consumo di energia si è spostato dallo stomaco al cervello e questo ha innescato una rivoluzione cognitiva gli esseri umani iniziarono a usare un pensiero molto più astratto e svilupparono linguaggi complessi si sviluppò la civiltà moderna quindi mangia mio caro arnold mangia arni hai sprecato di nuovo tutti i tuoi soldi nella fattoria online ok bene ora dovrai mangiare cibo virtuale a proposito lo sapevi che bill gates è il titolare di una gold car di mcdonald's ti dà il diritto di mangiare lì gratuitamente e ovviamente ne hai bisogno più di chiunque altro da dove iniziare vediamo suggerisco lo speciale suicide burger di burger king ha quattro polpette quattro fette di formaggio e pancetta ed ha 800 calorie ecco le patatine fritte di topolino contengono 19 ingredienti nascosti arnold mangia un hamburger può essere composto da parti di cento mucche diverse contemporaneamente in totale per l'industria dei fast food vengono macellate 50 milioni di mucche all'anno hai già finito allora bevi una bibita è deliberatamente gratuita perché stuzzica l'appetito per fortuna per soddisfare i tuoi desideri ci sono già 39 mila mcdonald's aperti in 120 paesi in tutto il mondo e nel regno unito l'olio riciclato delle patatine fritte alimenta anche il camion negli ultimi 20 anni il numero di persone in sovrappeso nel mondo è triplicato faresti meglio a smetterla arnold perché con una dieta come questa aumenterai del 10 per cento del tuo peso corporeo al mese e questo porterà a arnold basta dai ora il diabete di tipo 2 sei depresso e i tuoi vasi sanguini sono pieni zeppi di grasso e questo potrebbe facilmente farti venire un infarto il fast food è estremamente calorico ed è praticamente privo di vitamine e minerali il mio consiglio devi passare con urgenza a cibi sani cucinati in casa altrimenti sei in grossi guai ecco qua buon per te arnold che ne dici se vengo a trovarti per cena stasera oh mio dio arnold che cavolo hai fatto maialino arrosto torta al cioccolato e caramello non è quello che intendevo non si tratta solo di non mangiare fast food amico si tratta di qualsiasi tipo di cibo ipercalorico e della tua eccessiva fame vestiti arni perché con un corpo come il tuo potremmo perdere tutto il nostro pubblico femminile cerchi somiglianze tra te e schwarzenegger ne hai almeno uno e questo è il tuo nome dovrai iniziare ad allenarti se vuoi avere un corpo come il suo e rinuncia anche alla tua solita dieta o forse hai qualche altra opzione arnold sei serio steroidi prima di tutto è illegale e in secondo luogo e lo ripeto è illegale i muscoli costituiti da composti proteici vengono costruiti a causa di microstrappi che vengono ripristinati in pochi giorni e rendono il muscolo più forte e più grande gli steroidi sono sostanze che una volta all'interno del corpo vengono convertite in ormoni che raddoppiano il processo di recupero aumentando allo stesso tempo drasticamente il volume muscolare dopo aver preso così tanto testosterone iniziano i processi irreversibili nel corpo vedrai un aumento dell'acne una diminuzione delle dimensioni dei testicoli e un'aggressività ingiustificata anche se saprò cosa l'ha causato e perché non preoccuparti arnold almeno avrai qualcos'altro di grosso sembra che questo trattamento da aspirante sia fatto apposta per le persone pigre come te in effetti usare gli steroidi significa che non devi nemmeno fare esercizio per aumentare di peso naturalmente consumare così tanto testosterone aumenterà la tua libido avrai bisogno di più attenzione fisica quasi immediatamente ehi arnold dai è troppo quindi hai deciso di caricare le tue foto su una app di appuntamenti congratulazioni hai una corrispondenza a giudicare dalle sue foto avete molto in comune come farai a sorprenderla al tuo primo appuntamento grande arnold voi due siete decisamente fatti l'uno per l'altro buongiorno arnold vedo che non ti sei svegliato da solo che cosa hai paura arnold dimenticavo di dirtelo il testosterone colpisce le donne a suo modo speciale si fanno la barba come gli uomini e la loro voce diventa più profonda e ruvida ma non precipitarti così è pericoloso perché il tuo cuore non è più buono come una volta ora puoi facilmente avere un infarto ma la cosa peggiore è che anche rinunciando completamente al testosterone non eliminerà le conseguenze diventerai grasso e mentalmente instabile sì arnold alla fine la situazione è persino peggiore di quando hai iniziato per guadagnare chili in più devi aumentare costantemente il numero di calorie che mangi con il tuo peso il tuo stile di vita pigro ti basterà mangiare sei sneaker bar al giorno per iniziare ad aumentare di peso quando raggiungi 300 kg l'assegnazione di sneaker dovrebbe essere di 14 bar al giorno e quando raggiungi 2000 kg dovrai mangiare 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 di nuovo fino a quando non mangi 17.000 calorie di cibo al giorno nessuno ha mai raggiunto una tale massa 2000 kg distruggerebbero semplicemente il tuo corpo il grasso comprimerà i tuoi organi e le tue vene inizierai a soffocare le tue ossa più forti che sono quattro volte più forti del cemento si romperanno si romperanno se provi a stare in piedi a questo peso puoi vivere solo per pochi secondi finché il grasso non ti strangola completamente quindi succhiamoci un po sembra che dovresti prendere in prestito un reggiseno a tua madre più grasso nel corpo più intensamente vengono prodotti gli ormoni femminili il seno si allarga la voce si assottiglia e il tuo amico non incontra più il sole la mattina che svolta sembra che lolita 97 abbia un marito molto geloso non sporgerti c'è abbastanza grasso nel tuo corpo per stare seduto in un armadio senza cibo per tre anni hai solo bisogno di tritare vitamine e bere acqua non importa ciao qui puoi mangiare caramelle e barrette di cioccolato tutto il giorno e puoi andare in giro nel negozio in un carrello a vostra disposizione sono beni per lo svago lo sport i vestiti e persino le medicine in media in un ipermercato ci sono 120 mila prodotti diversi che ti offriranno 50 anni di vita spensierata ma sfortunatamente senza elettricità gran parte di questi beni si rovinerà il giorno successivo a temperatura ambiente l'intera tonnellata di latte presente nel negozio sparirà in sole 18 ore pollo maiale manzo freschi andranno tutti a male in un giorno torte e pasticcini dureranno un po di più forse 36 ore se sei fortunato potresti provare a preparare potresti salare il pesce e mettere il pane sottovuoto quindi la loro durata sarà prolungata di anni ma ehi cogli l'attimo giusto arnold dopo una settimana anche frutta e verdura andranno a male e dovrai passare i cereali ma anche solo la loro preparazione esaurirà la fornitura limitata di acqua che potresti bere per almeno 10 anni potresti provare ad estenderlo filtrandolo attraverso il carbone dal dipartimento del giardinaggio e poi pulendolo con l'argento ok quindi d'ora in poi il tuo solo pasto sarà cibo in scatola lo stufato di manzo può durare quasi indefinitivamente se l'imballaggio non è danneggiato e i cetrioli e i pomodori in salamoglia possono essere un'ulteriore fonte d'acqua quindi le tre tonnellate di prodotti in scatola che si trovano nel negozio ti dureranno per otto anni e quindi l'ultima fonte di cibo rimasta sarà molte cose possono essere usate per altri scopi ad esempio puoi pulirti il sederino con qualsiasi tipo di carta devi solo accartocciarlo a fondo e beh usarlo proprio come hanno fatto le nostre bisnonne e quando finisci i soldi puoi sempre usare la carta di credito spero che tu non stia bevendo l'acqua sporca del fiume buon lavoro l'acqua sporca è la causa principale di tutte le malattie del mondo a causa del consumo di acqua sporca ogni anno nel mondo muoiono 3,4 milioni di persone si tratta di quasi tre volte di più rispetto agli incidenti stradali e il 20% in più rispetto all'obesità è bello che tu abbia bevuto qualcosa gli ecoattivisti hanno preso tutte le vostre bottiglie di plastica ora non hai acqua ma vedo che hai sete basta non bere dal fiume non vedi i segnali o arni te ne pentirai una goccia del fiume gange contiene 3,5 milioni di batteri e coli ovvero 110 volte la norma nonostante ciò il 40 per cento della popolazione indiana mezzo miliardo di persone beve dalle acque del gange e ovviamente ci sono altri elementi dannosi armi dove sei ok ho capito lieve diarrea questo è solo l'inizio diventerà più forte e più forte e questo è già un problema dovrai investire eppure avresti potuto semplicemente purificare l'acqua del fiume puoi purificare l'acqua del fiume attraverso il tessuto filtrerà sabbia e sporco l'ebollizione aiuterà a eliminare il 99 per cento dei microrganismi dannosi e il metodo più efficace è la purificazione chimica ad esempio utilizzando compresse di cloro che sapore ha questa acqua hai guardato molto discovery vero infatti quando non c'è niente da bere i viaggiatori ricorrono all'urina ma nel tuo caso non è possibile a causa della disidratazione e una mancanza di forza oh arnold sei tornato le persone gentili ti hanno aiutato quanto è buona l'acqua ma non abbassare la guardia c'è una linea sottile tra amore e odio corri armi pensi di essere stato fortunato beh ti sbagli ancora sai che cercare su google i tuoi sintomi è una pessima idea oh guarda un umore depresso mancanza di fiducia in se stessi affaticamento forse soffri davvero di depressione forse dovresti fissare un appuntamento con uno psichiatra è davvero importante non autodiagnosticare e automedicare quindi non wow così tanti antidepressivi diversi qualcosa mi dice che neanche tu sei interessato a leggere le indicazioni vero amico va bene quindi hai due confezioni di prozac 75 compresse dice lexa 5 confezioni di zoloft mezzo barattolo di lexa pro e un sacco di sciroppi sedativi di diverse varietà e colori non che questo curerà necessariamente la tua depressione ma una volta che inizi a raccogliere medicinali è difficile smettere l'unica cosa che mi preoccupa davvero è l'antidepressivo triciclico ma se ti conosco so che prima o poi inizierai a usare anche tu quella spazzatura oh ci risiamo vediamo cosa hai preso questa volta gli inibitori delle mao possono portare al delirium tremens da qui le tue allucinazioni vertigini tremori convulsioni sono tutti causati dagli inibitori della ricaptazione della serotonina le euforie il piacere che provi provengono dagli antidepressivi triciclici a proposito hai notato che non mangi da otto ore le modelle a volte prendono antidepressivi per non avere fame e i sogni sotto gli antidepressivi appaiono più vicini e tangibili allora arni era tutto un sogno o era reale e adesso non vuoi più automedicarti cos'è un contratto sei già stato scritturato in qualcosa prenditi il tuo tempo arnold e leggilo attentamente prima di firmare penso che potresti guadagnare un po affittando quel grande spazio vuoto tra le due orecchie cosa ne pensi arnold quello spazio dentro la tua grande testa rossa è così vuoto penso che potremmo metterci dentro la vecchia motocicletta di mio nonno arnold per questo ruolo sembra che dovrai triplicare il tuo peso gli attori per avvicinarsi il più possibile a un ruolo spesso devono ingrassare o perdere peso in un periodo di tempo molto breve christian bale dal 2008 al 2013 ha dovuto dimagrire nove volte e ha anche dovuto guadagnare fino a 30 kg sono 66 libre per fare progressi rapidamente aumentando di peso usa un piatto più grande in questo modo le porzioni abbondanti sembreranno più piccole aggiungi un sacco di snack arnold come frutta secca noci e panini al burro di arachidi e non dimenticare i dolci arnold sembra che ingrassare sia il tuo talento segreto sei davvero bravo in questo bene presto sarei pronto per interpretare il ruolo principale diventerai una star quindi è per questo che avevano bisogno di un attore con un peso così tremendo peccato arni sembra che tutti i tuoi sforzi siano stati vani e la tua paga non è nemmeno sufficiente per riportarti a casa quindi hai deciso di andare a piedi vero arnold ehi arnold stai bene a causa di tutto il peso eccessivo le tue ossa sono sottoposte a uno stress enorme dobbiamo calcolare il tuo indice di massa corporea a 152 pollici e 93 kg il tuo indice di massa corporea è superiore a 40 e questa è obesità di classe 3 amico hai bisogno di un aiuto serio qui chiama questo numero i miei amici ti porteranno in un posto speciale qui in pochi minuti tutto il grasso in eccesso verrà pumpato fuori da te sei uno schianto oh no la pelle cadente ti aiuterà a ricordarti di non fare scelpe stupide in futuro quindi stai salvando anime innocenti vero fai attenzione a non metterti nei guai sembra che tu abbia schivato un proiettile lì o no immagino che rimarrai bloccato qui per un po e dovrai sopravvivere senza cibo immagina di essere angus barbieri un uomo che non mangiava nulla da più di un anno scioccando i dottori viveva una vita normale andava in bagno solo una volta ogni 40 giorni alla fine del digiuno pesava 81 kg avendone perso 124 dopo 12 ore di digiuno diventi pallido e debole ma una persona grassa si sente meglio perché ha riserve di tessuto adiposo in questo momento iniziano le vertigini e dalla bocca esce un odore sgradevole oh arnold c'è acqua qui vedi arni guarda sempre il lato positivo della vita il digiuno può servire a buoni scopi gandhi digiunò per tre settimane per protestare contro il sistema delle caste in india christian bale ha perso 66 chili per il suo ruolo in the machinist e i monaci medievali digiunavano per ascoltare la voce di dio tu non dureresti neanche un giorno vero a differenza della mente umana il quarto giorno il corpo accetta la fame come un dato di fatto durante questo periodo si osserva una forte perdita di peso insieme alla debolezza il corpo ha sempre bisogno di cibo quindi quando non è presente deve utilizzare il tessuto adiposo e muscolare questo rilascia chetoni che sono estremamente dannosi per il corpo si sviluppano mal di testa e debolezza e nel peggiore dei casi si verifica vomito con succo gastrico confusione e persino la morte dopo due settimane avrai un costante senso di freddo e la tua coscienza spesso diventerà nebbiata e non capirai cosa starai facendo oh arni ecco che arriva l'aiuto non proprio quello che ti aspettavi ma comunque arni sei salvo no no Grazie.